buongiorno ben ragazzi, sono i ragazzi, siamo tornati in questo nuovissimo video oggi ragazzi, come vedete, siamo tornati sul terzo episodio delle stagioni coppia insieme a Francesco, leggenda bella allora, oggi abbiamo preso il Brasile, abbiamo appunto cambiato squadra per l'ultima volta come abbiamo detto e oggi andiamo avanti prego, fratello così, Neymar, valleggia un po' no ma Bill, come fa a correre così? cioè, visto, ha fatto una rotonda e è ritornato su di me una rotonda, perché comunque lui è in strada I know that would be better si, questo scambio incredibile, fantasioso, colgorante ma ma non la devi fare la bicicletta, non sei capace shhhh ti dita tu quando ci fai c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c mamma mia, questo Brasile come gioca no vai Neymar vai Neymar vai Neymar, non ce la fa più è stanco uh no no si il potere che ce l'ho per la prima volta e la seconda volta riesco a farlo no ma poi non c'è, che problema mi hai a premere due volte? non lo so non lo so io dico pure i pulsanti per falla però non mi esce ma poi i pulsanti sono analogici, devi creare eh, i pulsanti, i pulsanti, i pulsanti analogici pulsantologici per non dire analogici di tutto pulsantologici bello che scambio no prendiamo sta palla, andiamo a fare gol, vai Neymar eh vaffanculo ha proprio preso la palla eh niente, neanche il giallo ha preso tutto ma come niente, cioè guarda lì ha preso nettamente il pallone oh oh, e non aveva visto la palla, cioè vabbè ha preso nettamente le gambe lui è una cosa che non ha preso è proprio la del pallone ma no, lui ha preso la palla se la prendevo se la prendevo se la prendevo se la prendevo no, no, non fa queste cose ciao mamma che cucciolo eccolo eccolo, Tyson vai Tyson ma ma Tyson che pippa non è Tyson la pippa in questo caso se gli fai un tiro eh, abbastaggio filtrantoso eh sì mettici più forza forse ci arrivi ah bene prima parte Neymar accendo con Roberta Firmina ma no 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 eh, io ho preso la palla e infatti e infatti nulla da ridire ma punti in mezzo a poter fare sempre la stessa cosa perchè non mi ha fatto così e questo è attaccante per piacere ma vai vai bandina va la va la mona va bandina vai di testa di collo no no la presa di piedi ma pure schifo al cazzo e che attaccante di sverso te la presa dell'unico posto in cui doveva tirare una bomba e non l'ha mai ma anche chiuso duro è partito danielo e se questo è il vero danno sono assento vai stai zitto infatti non voglio parlare no vabbè dove tazzo vai sei in quest'altra metà santo che hai disegnato ha fatto un controllo è meno male è meno male comunque vita anche questa la prima è la prima cioè la seconda è la seconda è la prima la seconda è la prima è la seconda non è vero è la prima è la prima qual è la la ha infatti vedi che è la prima perché ci abbiamo una vinta solo è la seconda no è la seconda seconda partita contro l'arsenal che nello scorso episodio siamo riusciti a perdere o vincere non mi ricordo non mi ricordo comunque controllarsela stavolta per il brasile che dovrebbe essere tecnicamente un po' più forte però vediamo di rompergli fondo schiena anche allora c'eri tu là perciò andata lì poi hai già tutto collassato io ho avuto un callasso un callasso un callasso un callasso perché è un callasso che si è collassato scusa oggi non aveva detto dicete cosa vuol dicete ragazzi ma che dicete ma che dicete ma che dicete ma se lo andrò a segnare perché l'ho ordinato io ma se lo andrò a segnare non è vero no vabbè no vabbè no vabbè come un bravo tipo cristo come se andrò a destra e a sinistra e la persona rimane gritto non lo so cos'era questo che cos'era che cosa ha avvalto era un cannone il passaggio che mi ha fatto cos'era beh l'hai passata tu eh no non l'ho ripassata io gli è andata a sbatti sul mignolo ma che cosa io non ho cliccato niente dai Fabio andiamo a fare goal dai Fabio questo era giusto un attimo di svago adesso gli dobbiamo al culo e la fottuta porta non puoi sbagliare così però non puo che culo no no si vai Douglas vai Douglas ripartiamo ripartiamo si Neymar aspettami aspettami vai si si no si wow io non ci hanno capito un cazzo guarda guarda che cazzo fa è fatta fai la tab fai la tab eccomi guardami dietro no dai perchè saltava facciamo yeah 1 a 1 tutti a centro salite dai siamo già saliti fra si scodella eccolo no 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 sei un figlio di putroccolo mannaggia che cosa ha preso sei un figlio di putroccolo sei un putroccolo anzi no è finita 1 a 1 questa seconda partita in parezzo mamma mia mamma mia signori dentro con la terza e ultima partita di oggi terza partita signori terza partita signori terza partita signori e andiamo Brasile e Juventus dovremo sulla carta i parati di questi infatti tra legge è già partito madonna mia avevo già messo un crocio vabbè no vabbè no vabbè cioè no vabbè questa scivolata mi è piaciuta che schifo che schifo che schifo è dei gol no non l'ha presa se sei rotto se sei completamente disinteressato quando è rotto non la piolla non allungano il piede per prenderlo se ne è completamente il battuto del pallone no vabbè c'è quello alzato il piede veramente come cagano i cani come pisciano stava pisciano in quel momento è diventato un cane quello alzato il piede comunque non allora usiamo la tattica alla manifestazione no visto tac bello grande paolo della paolo miau paolo beh hai visto paolo no vabbè sì vabbè palla metta dopo questa partita togliamo il brasile perché non giro rosso lo so lo so lo so imperativo non c'è niente più bello ma qual' imperativo era relativo imperativo tisco della fabio ma adesso segneremo in 10 secondo me era miranda che portava sfida adesso segneremo in 10 miranda è il frutto della sfortuna hai visto guarda lì hai visto guarda lì era miranda non fare il parometto che ti vince non fare il parometto che ti vince se sbagli ci uccido era miranda era miranda era miranda era miranda era miranda dove vai era miranda era miranda era miranda era miranda era miranda che lancio che lancio che lancio guarda adesso la palla tu avrà tu non la vai pigliare che sei scarso ecco mi ero vai si riparte così scambio tattico scambio tattico scambio tattico scambio tattico guardate guardate i vidi che lui quanti scassi in questo momento tira oddio oddio con l'uscita di tanto speravo facesse una rovesciata di unire di unire di unire dove vai non basta non è vero siiii facciamola a dam battiamola a z facciamola a dam facciamola a dam facciamola a z 2 a 1 mamma signori che gol guardate lì che culo quella è andata vuota vabbè però la traversa la devi prendere sempre 2 a 1 e rimonta adesso abbiamo tutto il centro campo fresco tutto vabbè no vabbè no vabbè che cazza faio danna su danna su le marco eh che stop di gacca morta è piccolo 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 eccola guardate dai ah 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 comunque ragazzi che dicono due vittorie è una sconfitta però no un pareggio è un pareggio amico perché dici sconfitta l'hai detto tu non è vero comunque oggi abbiamo finito abbiamo fatto tre partite ragazzi discretamente bene devo dire il brasilè il brasilè va via il brasilè va via ragazzi il brasilè non gira no no togliamo miranda togli solo miranda il brasilè non gira mamma è vero che il brasilè non gira e gli si ha detto che non gira comunque spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo come sempre di lasciarvi inviare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto passare da 3 legends ci vediamo a un altro video bella we are family bella